L'Associazione Ticinese di Cremazione ha inaugurato questo crematorio dedicato a Francesco Rusca un anno fa. Noi siamo presenti tutti i giorni, dalle 7 del mattino fino alle 5 di sera, e abbiamo notato che alcuni utenti del cimitero venivano a domandarci dove si trovasse una tomba di un congiunto, un amico, un conoscente. In questo caso noi non potevamo dare una risposta perché non avevamo né una mappa del cimitero né una lista dei nomi, quindi dovevamo chiedere al comune che ci dava una posizione ma non sapevamo esattamente dove si trovasse. Abbiamo pensato quindi di dare un servizio ai cittadini, agli utenti del cimitero creando questo software. Quindi abbiamo uno schermo con disegnata la mappa del cimitero, basta introdurre il nome del defunto, in caso di omonomia abbiamo anche la data di nascita e l'origine del defunto, e si accende praticamente sulla mappa il settore dove si trova la tomba. È un software molto semplice da utilizzare, Il comune ci ha messo a disposizione gentilmente una lista in Excel di tutti i nomi dei defunti che si trovano qui in cimitero a Chiasso e una mappa cartacea. Praticamente abbiamo ripreso la mappa, l'abbiamo digitalizzata, informatizzata e abbiamo creato questo piccolo software che ci indica dove si trovano le tombe. Attualmente è un mese più o meno che è in fase di test, di utilizzo. Abbiamo già avuto 20-30 domande e l'utente è stato molto soddisfatto. La nostra idea adesso è di metterlo su un totem, quindi all'esterno dell'ufficio, in modo che l'utilizzo sia indipendentemente dalla presenza o meno dei nostri collaboratori e quindi anche alla domenica. Il comune ci darà ogni mese un aggiornamento delle tombe e quindi noi metteremo a giorno il sistema e quindi sarà sempre aggiornato al mese corrente. Abbiamo già avuto dei riscontri, alcuni comuni ci hanno già domandato se era possibile vedere il sistema e quindi penso che saremo a disposizione di questi comuni per far vedere come funziona ed eventualmente collaborare con loro. Grazie a tutti.